Abbiamo appena terminato il pellegrinaggio al santuario di Montevergine, dopo la salita è stata la celebrazione della funzione religiosa all'interno del santuario per ricordare tutti coloro che hanno sacrificato la loro vita nell'adempimento del dovere per la tutela della legalità, della democrazia del nostro paese. È un'iniziativa nel contesto del Memorial Day che si sviluppa su tutto il territorio nazionale, in tutte le città del nostro paese, nasce all'indomani delle stragi di Capaci di Via d'Amelio del 1992 e da allora il SAP organizza tutti gli anni questa iniziativa per ricordare chi ha sacrificato la loro vita per il bene del paese e per incontrare anche i loro familiari. Oggi siamo qua ad Avellino con tutte le delegazioni delle segreterie provinciali della Campania e anche la segreteria di Benevento e abbiamo unito idealmente con questa cerimonia tutto il paese nel ricordo e nella memoria dei nostri caduti.